Salve, sono Raffaele Lacioppi, con alcuni di voi già ci conosciamo perché abbiamo vissuto insieme qualche convegno o abbiamo avuto qualche incontro in cui si parlava di condivisione e di collaborazione immobiliare. Questo video è per invitarvi a un webinar totalmente gratuito, della durata di un'ora e trenta circa, che troverete disponibile su www.webinarimmobiliare.it. Il titolo dell'incontro di questo tempo che passeremo insieme è App Generation for Real Estate, quindi quelle applicazioni utilizzabili sia da tablet che da smartphone che possono rendere più pratica, più veloce e più dinamica l'attività dell'agente immobiliare. Quest'ora, ora e mezza di incontro, verterà su due temi principali. Ci sarà una prima parte in cui faremo un po' un punto generale sulla situazione, chiaramente un mondo che sta cambiando, un mondo in continua evoluzione, un mondo dove i processi tecnologici hanno chiaramente spostato tutte le dinamiche di questo lavoro. La seconda parte invece la dedicheremo proprio al mondo delle app. L'indirizzo per iscrivervi, ripeto, è completamente gratuito e www.webinarimmobiliare.it. www.webinarimmobiliare.it.it